manca più poco per la per la fine di questo libro siamo a pagina 212 e che sollievo poi non pensarci più per tutta la giornata e potersi godere qualche peccato di gola adoro la pizza e amo molto anche i dolci ma mentre la prima oltre a qualche chilo di troppo non mi procura particolari problemi devo stare davvero attenta ai secondi sono al limite del diabete e se assumo qualcosa di molto zuccherino devo poi bilanciare con delle proteine per non mandare in tista la mia glicemia Zuccheroso Tutto questo però è una conseguenza dell'età forse non mi occupo di queste cose come dovrei amo troppo il pollo oltre che i dolci al cacao e soprattutto il cioccolato al quale non riesco a propagare di no vi ho già detto che azzoro la pizza è una cosa meravigliosa specialmente in inverno quando fuori fa freddo il mio rapporto con il cibo è buttato molto con il passare degli anni e già da tempo non rappresenta più una ricompensa ma qualche ombra c'è ancora c'è stato un periodo nel quale la sensazione di fame mi riportava immediatamente alla mente e alla mia infanzia di stenti non mi riferisco solo ad Auschwitz ma anche al periodo di malnutrizione che ho vissuto in Romania dove c'era pochissimo da mangiare e niente di buono solo dieci anni dopo quando mi sono trasferito in Israele sono riuscito a controllare le mie abitudini alimentari evitando di rimpinzarmi senza sosta forse ero maniera e ero addirittura in sovrappeso perché avevo continuamente fame pertanto quando potevo mandavo giù tutto il possibile così ancora oggi sento i morsi della fame in modo sproporzionato e a volte mangio in maniera esagerata perché il pensiero della carenza di cibo mi brucia ancora più del vero desiderio di mangiare più del vero desiderio di mangiare al pari della fame un'altra cosa mi catapulta nel passato il freddo alle dita dei piedi in quel momento a fare di tutto per averli di non boccati la strada del perdono che ho percorso in questi anni è come avete letto una pratica costante frutto di un cambiamento radicale e profondo di mentalità talvolta qualcuno pensa che io sia allora una sorta di buddha imperturbabile non è così quando dico di aver perdonato i nazisti e sottolineo l'importanza di questa decisione non significa che nessun avvenimento mi sconvolga o sconforti a volte mi colpiscono gli insulti delle persone che vogliono ferirmi altre mi infugio solo a vedere come si bastano certi giovani ciò che importa però è che questi momenti di tensione emotiva non abbiano strascichi diventando un problema proprio perché ho bisogno di perdonare riesco a farlo entro uno o due giorni non ho più intenzione di trascinarmi dietro qualche avvenimento come una zavorra sempre più pesante da sopportare per questo non perderai la calma se vedessi per strada il dottor Mengele mi avvicinerai a lui in tutta tranquillità lo guarderai dritto negli occhi e gli chiederai che cosa ci ha iniettato nel corpo non c'è nessun avviso